Continuano a salire i contagi nella città di Agropoli. Nella giornata di ieri il primo cittadino Adamo Coppola ha comunicato attraverso una nota stampa la situazione dei casi positivi in città, ma questa mattina altri quattro contagi portano il numero di positivi a 19. Ho ricevuto aggiornamenti dall'ASL relativamente a quattro nuovi casi di positività al covid-19. Vengono fuori dalla catena di contatti, parzialmente analizzati, del nostro concittadino risultato positivo lo scorso 14 ottobre, fa sapere il primo cittadino. Attendiamo riscontro relativamente agli altri tamponi. Per quanto riguarda invece i due casi positivi annunciati nella serata di ieri, si tratta di due concittadini appartenenti allo stesso nucleo familiare che si erano recati alcuni giorni fa presso una struttura ospedaliera nel napoletano. Sottoposti al tampone in ingresso, lo stesso è risultato negativo. Purtroppo, durante la permanenza però, hanno contratto il virus. Essendo asintomatici, stanno lasciando l'ospedale e si recheranno in un'abitazione ad Agropoli per osservare il periodo di isolamento. Quindi, sottolinea Coppola, chiariamo che non hanno avuto alcun contatto ad Agropoli, componenti della famiglia compresi, e quindi non c'è alcuna catena di contatti da costruire, riferibile alla nostra città.